Polizze vita, meglio note come quella roba che il consulente di banca ti propone appena hai un po' di soldi. Scherzi a parte, le polizze vita sono estremamente popolari in Italia. Pensate che ogni anno la raccolta complessiva si aggira attorno ai 100 miliardi di premi. E per darvi una misura di quanto sia alta questa cifra, pensate che l'IVA, quella che si paga sui prodotti, ogni anno rende allo Stato appena di più, 130 miliardi. Quindi stiamo davvero parlando di qualcosa di enorme. È un prodotto che in Italia è molto utilizzato, ma purtroppo per noi è uno strumento e quindi ha dei pro e dei contro. Si può utilizzare in modo sensato e razionale, oppure si può finire con il regalare semplicemente soldi alla propria banca. Quindi se state pensando di sottoscrivere una polizza, se l'avete già fatto o se semplicemente volete informarvi, questo video fa il caso vostro. Per prima cosa mi presento perché è nuovo qui, io sono Pietro e dal 2017 racconto la finanza personale su questo canale. Quindi se vi interessano argomenti come questo, iscrivetevi. Piccola premessa prima di iniziare. Per scrivere questo video, io e i miei collaboratori ci abbiamo messo, non sto scherzando, due settimane. Perché abbiamo dovuto consultare tantissime fonti, esperti di assicurazioni e ve lo assicuro, non è una materia semplice. E infatti non ho la pretesa di poter riassumere un argomento così complesso di due settimane di ricerche in pochi minuti. Non è fattibile. Soprattutto in un mondo come quello delle assicurazioni, dove i singoli prodotti hanno un'enorme variabilità, quindi spiegare tutte le situazioni possibili non è fattibile. Il mio scopo con questo video è quello di darvi una bussola, una bussola con cui potrete orientarvi più facilmente in un mondo così complicato come quello delle assicurazioni, per cui poi quando sarete intenzionati eventualmente ad approfondire, lo potrete fare sicuramente con più facilità. Ok, partiamo con la base. Cos'è un'assicurazione? So che lo sapete, anche perché essendo quella dell'auto obbligatoria, credo che chiunque qui sappia che cos'è, però ripassiamo una cosa fondamentale che ci servirà tra poco. L'assicurazione è un contratto che serve a trasferire il rischio, in particolare il rischio che si verifichi un evento, di solito poco probabile, che per noi può essere dannoso dal punto di vista economico, magari addirittura insostenibile. Il rischio quindi è una componente negativa e l'assicurato, ovvero noi, per liberarsene deve pagare dei premi alla compagnia assicurativa, che appunto si assume il rischio. L'assicurazione quindi potremmo riassumerla come una scommessa sul fatto che si verifichi un certo evento, ma in che senso? Se l'evento si verifica, allora l'assicurato avrà un indennizzo, un risarcimento dei soldi o un qualche tipo di protezione dal rischio. Se l'evento però non dovesse verificarsi mai, tanto meglio ovviamente, ma questo significa anche che i premi sono stati pagati a vuoto e di fatto l'assicurato ha perso soldi. Per i più nerd, le assicurazioni, da un punto di vista squisitamente matematico, sono contratti con valore atteso negativo. Questo perché dobbiamo sottrarre giustamente i profitti che la compagnia assicurativa deve fare. Quindi su 100 persone che faranno un'assicurazione, mediamente 95, dico un numero a caso, pagheranno i premi senza che effettivamente si verifichi nessun evento. Ma allora che senso ha fare un'assicurazione se sappiamo che è una scommessa a perdere? Beh, perché un conto è il dato medio, un conto è la nostra situazione specifica. Se dovesse andarci di sfiga, infatti, potremmo avere un rischio troppo grosso e quindi anche a costo di pagare magari inutilmente un po', preferiamo essere protetti da questa eventualità. L'esempio più evidente è proprio quello di questo video, le polizze vita. Quando parliamo di polizze vita bisogna innanzitutto fare chiarezza su quali sono le parti coinvolte. Finora abbiamo parlato, infatti, di assicurazione ed è assicurato, ma in realtà bisogna andare un pochino più nel dettaglio perché nelle polizze vita è importantissimo fare la giusta chiarezza. L'assicurato, infatti, si compone di contraente, colui che stipula il contratto e che generalmente paga poi i premi. L'assicurato, ovvero la persona o le persone sulla cui vita è stipulata l'assicurazione. E per ultimo il beneficiario, che sono la persona o le persone che riceveranno i benefici dell'assicurazione in caso morte o in caso vita dell'assicurato. Il beneficiario può essere chiunque, amici, familiari, ma anche persone al di fuori dell'asse ereditario. E questo punto è molto importante, ci torniamo dopo. Queste tre parti possono essere eventualmente la stessa persona o persone diverse. Ovviamente nel caso morte sono per forza persone diverse, anche perché cosa ve ne fate dei soldi se siete morti? Chiarito questo punto, possiamo dire che in generale il mondo delle polizze vita è molto vasto. Infatti abbiamo addirittura sei rami diversi. In particolare però quelli che ci interessano oggi, che sono poi più popolari, sono il ramo 1 e il ramo 3. Che infatti contano per la quasi totalità dei premi raccolti ogni anno. Partiamo con il ramo 1, quello delle assicurazioni sulla durata della vita umana. Di base qui abbiamo due casistiche, o meglio, possiamo scegliere di fare due tipi di scommesse. La prima è che possiamo scommettere sul fatto che vivremo molto a lungo, così da ricevere del denaro se ciò accadrà. E qua si parla di caso vita, diciamo che siamo molto ottimisti. La seconda è una scommessa sul fatto che invece non vivremo a lungo, magari che ci sarà una morte prematura. E qui si parla di caso morte, qui diciamo che siamo pessimisti. Partiamo dal caso vita, che voglio solo accennare perché non è molto popolare e secondo me non è neanche così interessante. Faccio un esempio di polizza con rendita immediata. Ho 65 anni, quindi tra poco andrò in pensione, verso 10.000 euro e a partire dal pensionamento, quindi fra un paio d'anni, fino a quando muoio, l'assicurazione mi pagherà dei soldi ogni anno. In questo caso l'assicurazione è mica escema, loro avranno fatto i calcoli sul fatto che statisticamente una persona come me vive più o meno fino a 80 anni. Quindi loro faranno in modo di ripartire questi 10.000 euro, magari nel frattempo si sono rivalutati un po', in modo da ridarmeli tutti entro gli 82, gli 83 anni. È quella la cosa più probabile. Se invece dovessi vivere di più, magari molto di più, 85, 90, 100 anni, a quel punto la mia scommessa sarà andata a buon fine, perché avrò avuto quasi sicuramente di più dei 10.000 euro di partenza. Sia perché sono vissuto più lungo, quindi di fatto l'assicurazione ha perso la scommessa, ma anche perché nel tempo il capitale potrebbe essere rivalutato. Nel caso opposto, invece, una morte a 70-75 anni avrò probabilmente ricevuto meno dei 10.000 euro di partenza, quindi ci ho perso. Questo contratto, come dicevo, non è molto utilizzato, sia perché raramente è conveniente, anche perché avete le probabilità contro, ma anche perché costi e rendimenti possono essere estremamente svantaggiosi. Per intenderci, i rendimenti possono tranquillamente essere molto più bassi a di quelli di un comune BTP. Parliamo invece di quello che interessa a tutti, il caso morte. La polizza caso morte più popolare e più utilizzata in assoluto si chiama temporanea caso morte e funziona più o meno così. Siccome non sono scaramantico, farò l'esempio su di me. Immaginate che io abbia 32 anni, un'età in cui effettivamente può essere che ci siano figli non autosufficienti, figli piccoli, e decido di sottoscrivere un'assicurazione per cui, se dovessi morire entro i prossimi 30 anni, quindi entro i 62 anni di età, la mia famiglia, mia moglie, i miei figli o il mio portinaio, se desidero, riceverà una certa somma di denaro. Quanto? In realtà lo decido io. Diciamo 500.000 euro. Questo è il capitale assicurato. Ovviamente l'assicurazione, in cambio, vuole che io paghi dei premi, magari un tot al mese o un tot all'anno, per i prossimi 30 anni. Mi sono fatto aiutare da un assicuratore per fare una simulazione accurata e realistica, per sapere quanto dovrei pagare in questo caso, per fare questa esatta assicurazione. E la risposta è 798,90 all'anno per i prossimi 30 anni. Questo significa che se dovessi morire entro i 62 anni, la mia famiglia riceverebbe 500.000 euro. Caso opposto, non mi succede niente, avrò complessivamente pagato circa 24.000 euro di premi, perché non si è verificato l'evento assicurato, ossia la mia morte. Ovviamente più si va in là con l'età e più aumentano le probabilità di morire, quindi i premi giustamente salgono. La stessa polizza, sempre di 30 anni, sottoscritta a 48 anni, avrebbe dei premi annuali di 3.800 euro. Ma è logico, siamo coperti fino ai 78 anni di età. Esiste anche una situazione ancora più specifica, che è l'assicurazione di annualità, dove anziché assicurare per una somma fissa, 500.000 euro nel caso di prima, si assicura il pagamento del mutuo rimanente, quindi è una somma che andrà a scalare via via con gli anni, motivo per cui queste assicurazioni di solito sono più economiche. E questo di solito lo si fa per evitare dei pignoramenti in caso di morte prematura. Ma quando conviene fare un contratto del genere? In Italia ci sono moltissime famiglie monoreddito e con figli, e in questi contesti se il genitore che lavora muore in età precoce, sono dolori. Certo, anche il coniuge magari si può reinventare in qualche modo, ma non è semplice e può volerci tantissimo tempo, soprattutto se quest'ultima persona è rimasta fuori dal mondo del lavoro per anni o addirittura decenni. E nel frattempo, come si vive? Come si mandano avanti i figli? Certo, uno può prendere il primo lavoro che capita, però spesso sono situazioni veramente al limite della tollerabilità, quindi diciamo che è una buona copertura. In questi casi, i contratti come le temporanee caso morte possono essere estremamente utili, e non certamente per guadagnarci, ma anche solo per sopravvivere. In certi casi, se il capitale assicurato non è altissimo, al prezzo di poche decine di euro al mese, si evita di mandare completamente in malora la propria famiglia per un evento del destino. Bisogna sempre ricordare, questo lo ripeto ogni volta, che avete le probabilità contro, statisticamente. Questa assicurazione, secondo me, è utile quando c'è una reale esigenza, e non per una semplice paranoia, perché mediamente saranno soldi buttati. Poi ognuno fa quello che vuole. Semplicemente io non consiglierei a chiunque di fare un contratto del genere, ma solo a quelle persone la cui morte rappresenta un danno veramente importante per tutti quelli che gli stanno vicino. Un tipo di assicurazione che consiglierei invece a chiunque è quella online, ed è offerta dallo sponsor di questo video, NordVPN. NordVPN è uno sponsor storico del canale, quindi saprete già tutti cosa fa, ma per chi è nuovo facciamo un ripassino. Si tratta di un servizio che offre una protezione ai propri clienti su vari aspetti del digitale. Un po' come quando con il broker fissate lo stop loss per evitare di perdere troppi soldi. Il primo stop loss? La VPN, nascondendo indirizzo IP e cronologia anche alla stessa NordVPN. L'azienda infatti è una delle poche avere una certificazione no log, quindi non ha delle memorie in grado di memorizzare i vostri dati. Certificazione che tra l'altro è stata confermata nel 2023 da una piccolissima azienda chiamata Deloitte. Non so se ci capiamo. Il secondo stop loss, se vogliamo chiamarlo così, è la kill switch. Tranquilli, non è una minaccia per chi investe in meme stock. È semplicemente un tasto che consente di interrompere la connessione a internet qualora per qualsiasi motivo la VPN dovesse perdere il segnale. Accedendo dal link che trovate qua sotto in descrizione avete la possibilità di approfondire tutti i servizi che vi ho citato e in realtà anche molti altri e ottenere tra l'altro uno sconto sul piano biennale più 4 mesi extra in omaggio. Vi lascio ovviamente tutto qua sotto in descrizione, ora torniamo alle nostre assicurazioni. Uno dei vantaggi spesso citati delle polizze caso morte è la detraibilità, o almeno questo è quello che alcuni vi diranno. Sentite, io ve lo voglio citare per onestà intellettuale come vantaggio, ma l'importo massimo detraibile è del 19% dei premi pagati con un limite dai 530 ai 1291 all'anno. Quindi va bene, ma parliamo di robetta. E questo era il caso morte e con questo chiudiamo anche il ramo 1. Ma prima di dirvi pro e contro delle assicurazioni, e alcune cose fondamentali secondo me da sapere, manca prima l'altro ramo più scelto in assoluto dagli italiani, il ramo 3. Quello delle assicurazioni sulla vita connesse a indici o fondi. Qui sarò molto breve in realtà. All'interno del ramo 3 abbiamo le polizze unit linked, contratti dove l'assicurazione investe i premi versati in fondi comuni, e le polizze index linked, dove invece i premi seguono degli indici azionari e obbligazionari. Il contraente investe dei soldi e quando l'assicurato vive più di un tot di anni o muore, ai beneficiari vanno i soldi che negli anni saranno cresciuti tanto, cresciuti poco, magari addirittura decresciuti. Esistono delle polizze che però hanno un cosiddetto capitale garantito, quindi se si versa 100 non si avrà mai indietro meno di 100. Chiaramente vale sempre la solita equazione che facciamo ogni volta sul canale. Meno rischio, meno rendimenti. Da questo tipo di assicurazione ci si può aspettare un rendimento un po' più basso. Il problema con questi contratti è che, a mio umilissimo parere, sono di fatto degli investimenti e non delle polizze assicurative. Prima abbiamo parlato di rischio, di eventi improbabili da cui proteggersi. Qui no, qui abbiamo un capitale che viene investito, a volte bene, a volte meno bene, otteniamo dei rendimenti e basta. Chiamarle polizze è ingannevole e non lo dico solo io, perché giustamente uno di voi potrebbe pensare «Vabbè, ma tu c'è chi sei per dirlo? Sei un assicuratore?» No. Prendiamo le parole di Claudio De Mozzi, presidente del Sindacato Nazionale degli Agenti Assicurativi, una persona che, immagino, è abituata a rappresentare gli interessi proprio degli assicuratori. E qui cito testuali parole. Anche se questi prodotti vengono chiamati polizze vita, se non danno garanzie di rendimento minimo né di conservazione del capitale, sono prodotti di investimento. E io non potrei essere più d'accordo. L'assicurazione deve assicurare qualcosa, si deve trasferire un certo tipo di rischio all'assicurazione. Altrimenti di che parliamo? È un investimento. Io qui sul canale sono ormai quasi sette anni che parlo di investimenti e giuro, non mi sognerei mai di dirvi che sono delle assicurazioni. Eppure regolarmente sento racconti di persone a cui in banca sono stati proposti questi prodotti presentandoli come assicurazioni e nella testa del principiante, che giustamente non si informa regolarmente su queste cose, assicurazione uguale rischio zero e magari addirittura ci posso fare dei rendimenti. Ma anche escludendo questa piccola postilla, perché uno potrebbe dire, vabbè, ti stai attaccando al nome. Parliamo di costi. I costi di questi prodotti possono essere altissimi, tra costi di gestione annui, costi iniziali, costi di uscita, penali di uscita anticipata, commissioni di performance. Ecco che tranquillamente si può arrivare anche a un 5% annuo. Cifre che chiaramente non hanno senso. E cosa comporta tutto ciò? Che si riducono tantissimo i rendimenti. I rendimenti medi delle unit linked, secondo i dati IVAS, quindi i dati ufficiali, si aggirano attorno al 2% annuo. 2%. Francamente credo che anche comprando 10 azioni a caso dell'S&P 500 si possa fare di meglio. Eppure arriviamo ai vantaggi. I vantaggi in questo caso sia del ramo 1, quello di cui vi ho parlato a inizio video, sia del ramo 3, di quest'ultimo. Quindi valgono sia per le caso vita, caso morte, sia per queste ultime più simili a investimenti. Il primo grandissimo vantaggio è che tra i beneficiari ci può essere chiunque, anche al di fuori dell'asse ereditario. Pensate per esempio a una coppia di fatto, non sposata, quindi legalmente non c'è nessun tipo di diritto, che però ha un figlio. In questo caso, se uno dei due genitori muore, legalmente andrebbe tutto al figlio e al partner non spetta assolutamente niente. Se io volessi lasciare qualcosa al mio partner, ecco che un'assicurazione potrebbe essere interessante. Oppure, altra fattispecie, ho tre figli e una moglie. Quando muoio per legge, un terzo va a mia moglie e i due terzi invece vengono ripartiti in parti uguali tra i tre figli. Ma mettiamo caso che uno di questi figli, per motivi personali, io non voglio metterlo nel testamento. Posso farlo? No, è illegale, semplicemente non posso farlo. Però potrei mettere una buona parte del mio capitale in assicurazioni e intestarle in parti uguali ai due figli a cui voglio lasciare i soldi, così al terzo non arriverà quasi nulla. In generale, quindi, le assicurazioni sono uno strumento molto interessante se si vuol fare una pianificazione testamentaria di un certo tipo, che esca un po' fuori dai canoni standard. Anche perché, arriviamo al vantaggio successivo, sia il vantaggio numero due, non si pagano tasse sulla successione. Già, va detto, sotto il milione di euro, per certi tipi di persone non si pagano tasse. Il punto è che, di nuovo, voglio metter nel testamento qualcuno che è al di fuori dell'asse ereditario? In questi casi, per un semplice convivente, ad esempio, si paga ben l'8% sull'eredità. E non è poco. Quindi in questi casi potrebbe aver senso valutare cosa conviene di più tra le due opzioni. Assicurazione o pagare l'8%. Altro vantaggio che ho voluto citare comunque. Impignorabilità. Io francamente ci ho provato a pensare a situazioni dove questo è un vantaggio, ma mi sono venute in mente solo veramente cose per niente comuni e anche, boh, non troppo belle. Quindi io comunque ve lo cito come vantaggio, poi fate voi. Per concludere, cosa ne penso delle assicurazioni? Convengono? Partiamo dal ramo 1. Secondo la mia opinione, le polizze caso vita non sono particolarmente interessanti. Al contrario, il caso morte, per determinate situazioni con dei rischi particolari, sì, è da valutare e potete farlo anche autonomamente cercando sui vari siti comparatori che vi faranno una piccolissima simulazione. Riguardo al ramo 3 trovo che siano assolutamente sconvenienti, ripeto, è la mia opinione, a meno che, come ho detto prima, non ci sia da fare una pianificazione testamentaria particolare. In quei casi, secondo me, ha senso valutare. Infatti potrebbe aver senso pagare dei costi elevati pur di non pagare, ad esempio, tasse sulla successione o di mettere all'interno del testamento persone che altrimenti non ci potrebbero stare. Per chi invece non ricade in queste fattispecie che sono un po' particolari e decisamente non comuni, trovo che sia più sensato imparare ad investire autonomamente, magari tramite ETF, quindi prodotti semplici che hanno un costo veramente basso e dopo un po' di studio possono tornare molto utili. Per tutti quelli tra voi che invece al momento hanno già una polizza, magari proprio del ramo 3, e non sono particolarmente convinti, quindi per prima cosa io cercherei di capire da qualcuno di esterno che è completamente disinteressato se quello che avete acquistato fa effettivamente al caso vostro se è un buon prodotto oppure no. Se invece non trovate nessuno a cui chiedere consiglio e comunque non ci capite niente di questa roba, il mio consiglio è evitate di investire in prodotti che non comprendete appieno perché il rischio di fare dei grandi danni è decisamente elevato. Quindi per oggi è tutto, fatemi sapere voi cosa ne pensate, avete un'assicurazione, state pensando di farla, magari l'avete avuta in passato e non ce l'avete più, sono curioso di sapere qual è stato il vostro vissuto. Scrivete tutto qua sotto nei commenti. Per oggi è tutto, un saluto e alla prossima!